Prima di andare in pausa io vorrei fare vedere il libro di Beppe perché poi ti devo salutare Grazie Questo 80 voglia di Curva Filadelfia, chiaramente è un gioco di parole, adesso vediamo se si riesce a vedere Eccolo qua Libro più DVD, c'è anche un bel DVD con tante foto della Curva Filadelfia, ovviamente si parla degli anni 80 E' stato un lavorone Beppe? Beh sì, sono due anni di lavoro, di ricerca avvaldata dagli archivi della stampa di Tutto Sport In cui Stefania mi ha in parte aiutato, sono state raccolte varie interviste dei protagonisti delle gradinate di quegli anni Oltre a tutta una serie di programmi televisivi che ho visionato, raccolte di materiale fotografico, volantini Insomma un po' di tutto, ho ripercorso dieci anni E' un gran bel libro Io ti ringrazio per le considerazioni E non lo dico perché ho partecipato veramente in minima parte anch'io però insomma è un bel libro Qua ho partecipato tutti, nel senso che ci sono state centinaia di ragazzi, e non ragazzi perché ormai I ragazzi di allora diciamo così, che mi hanno aiutato con contributi notevoli Avessi dovuto ringraziare tutti avrei riempito mezza parte del libro In parte ho ringraziato qualcuno Certo, perfetto, insomma sicuramente visto che si avvicina a Natale comprate questo libro Tanta voglia di Curva Filadelfia di Beppe Franzi Grazie a tutti Grazie a tutti